Il Laterina batte col minimo scarto il Pontassieve e si assicura un primato in solitario nello sprint finale ancora lungo del campionato di promozione. Entrambe le squadre con qualche problema di formazione la testa anche alla posizione di classifica. Ne viene fuori quindi un match dalle non moltissime emozioni nel quale meglio comunque per entrambi la fase di interdizione che quella offensiva. A dimostrazione di questo la fase di studio dura praticamente metà primo tempo. Il Taccuino fino a quel momento bianco viene rinnovato per la protesta del giovane Bacchi che chiede inascoltato un penalty per intervento ai sudanni in area locale. Di fatto il Pontassieve nel primo tempo è tutto qui. Esce alla distanza l'Arno Laterina. Sacconi pecca di precisione quando su ripartenza sull'auto destro vede Manzini fuori dai pali. Calcia dalla lunghissima distanza non inquadrando però lo specchio. Il gol che decide il match è però rimandato di poco. Punizione sul fronte opposto di Cinini. Svetta a centro area Mattesini. La rete quindi si gonfia 1-0. Dopo l'intervallo subito destro potente a scendere di Giannoni per gli azzurri ospiti. Ciucchi però controlla la traiettoria. Ripartenza quindi nell'Arno Laterina con Sacconi che da destra vince il duello nell'uno contro uno. Centra per Mattesini sotto misura Manzini negara doppio e doppietta tenendo in gara i suoi che però si limitano in fase offensiva ad un diagonale sporco di Bardazzi neutralizzato dall'estremo ospite. Sanzone viene allontanato per proteste minuto 26 per logistica di recupero dei palloni dal fondo campo ma di fatto il finale del match non produce più niente così Laterina festeggia un primato solitario anche se la strada è ancora lunga.